Buongiorno a tutti, qui Ardino Schenato e questa è una nuova operazione che si è aperta quest'oggi avevo inserito un ordine questa mattina su breakout della barra pin con falsa rottura dei massimi precedenti proprio su questo livello con stop sotto i minimi, quindi operazione classica abbiamo un'area importante qui dove passa il pivot a 118,70 anche se la mia idea è quella di cercare di portarla più in questa zona che è circa un 1 a 2 e mezzo circa, quindi interessante tutto quanto in linea, operazione però che è contro trend ma su un'area di domanda molto 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 importante e quindi staremo a vedere nei prossimi video un po' che cosa succederà intanto un saluto alla prossima eccoci al secondo video della pin bar con falsa rottura con fatto su euro yen poi due giorni dopo vedete che il mercato è sceso rapidamente al di sotto del mio livello di stop e quindi un per cento di rischio e ho dovuto scegliere il mercato proprio perché lo stop è stato colpito bene, alla prossima operazione, un saluto buonasera a tutti, eccoci arrivati con un nuovo video di una nuova operazione di trading qui si tratta di dollaro americano contro dollaro canadese ho venduto questa mattina a breakout della barra outside dell'altro giorno il dollaro americano e ho comprato dollaro canadese in questo caso il prezzo mi piaceva perché a livello weekly ha chiuso al di sotto dell'1.40 e al di sotto del pivot mensile quindi livello molto interessante, sta girando in maniera più debole il prezzo e quindi in questo caso mi aspetto diciamo un movimento di ribasso verso questo livello molto importante che potrebbe essere il primo punto di approdo poi successivamente ce ne sono altri però in questo caso il rischio di rendimento leggermente superiore di 1.1 non troppo, cercherei il movimento abbastanza repentino verso il basso già tra domani e dopo domani lo stop comunque l'ho messo al di sopra della barra outside ed è 0.90 circa per cento sull'equity io vi saluto e ci vediamo al prossimo video eccoci al secondo video dell'operazione da loro canada dopo aver visto il mercato scendere verso il mio target ieri con una chiusura inside tra l'altro che mi dava l'idea che con la rottura al ribasso potesse andare a target e quest'oggi il mercato è andato a colpire la mia zona di stop quindi sono andato a costo di 1.090 per carità costo molto basso quindi meglio adesso rivedere un pochino la situazione visto che il weekly sta ritornando vedete se dovesse chiudere così con un weekly con un minimo più basso e la possibilità di vedere nuovamente movimenti rialzisti quindi è meglio stare fuori dal momento attendere nuove opportunità e a presto per il prossimo video buongiorno a tutti qui Arduino è un altro video operativo in questo caso sono entrato come potete vedere sull'euro dollaro l'entry è stata fatta appunto su questa zona di scritto entry stop loss sotto i minimi e questa è stata fatta appunto perché avevamo una configurazione weekly chiaramente di possibile rimbalzo con un falso minimo molto molto chiaro sul grafico settimanale e un bellissimo falso minimo anche sul grafico daily in questo caso devo dire una delle operazioni migliori che si è venuta a creare nelle ultime settimane sul forex e in questo caso quindi sono entrato a breakout del massimo della barra pin con falsa rottura dei minimi e l'obiettivo è posto qui sul pivot mensile 2R quindi risk reward di 1 a 2 e appunto in questo caso vado a cercare questo obiettivo in realtà vedendo un pochino come sono impostate la cosa il prezzo e dove ci sono dei livelli molto importanti di offerta si potrebbe anche cercare l'1.11.81.12 con 1 a 3 però preferisco mantenermi un pochino più conservativo comunque un risk reward molto interessante da 2R strategy 2R con appunto poi la possibilità di rientrare magari su un possibile swing se ci darà dei nuovi segnali ci vediamo comunque ai prossimi video per vedere un po' come andrà l'operazione eccoci arrivati al secondo video dell'operazione che ho sull'euro dollaro ieri si è formata questa barra di esaurimento vedete dopo essere stato eseguito quest'oggi non ho ancora fatto nulla non ho modificato al momento l'operazione vedrà un pochino da farsi nelle prossime ore di base però il segnale che ho preso io era su un'area di domanda molto importante quindi al momento dove si è concretizzato questo segnale comunque di possibile comunque il ritorno verso il basso non vorrei mi andasse a influire nell'operazione è sicuramente più importante questo minimo quindi al momento rimango a mercato ed attendo le prossime ore per capire se modificare lo stop in qualche modo o comunque gestire la posizione in una maniera diversa nella quale avevo comunque preventivato ci vediamo quindi al prossimo video eccoci a un nuovo video dell'operazione su euro dollaro come avete visto il mercato è salito verso la prima area a 1,10 andando a violare praticamente il massimo precedente il mio obiettivo è a 2R ecco qua R1 sarebbe il pivot 2R quindi risk reward 1 a 2 in questo caso ho superato venerdì l'1R con questo movimento la mia idea però ripeto è quella di andare verso il 2R e quindi da lì insomma prendere profitto vedrò nella giornata se appunto modificare il mio stop a break even perché penso che ormai sia arrivato quasi il momento appunto di spostare la break even in realtà sarebbe già arrivato con il tocco di 1 a 1 però insomma con tranquillità probabilmente andrò anche a free risk io intanto vi saluto e ci vediamo al prossimo video eccoci al quarto video dell'operazione su euro dollaro in questo caso ho questa mattina spostato lo stop a 4 pips di profitto quindi a break even diciamo a free risk e adesso è il momento sembra il prezzo voler andare verso il break even vedremo cosa succederà comunque nel prossimo video intanto io vi saluto alla prossima buongiorno a tutti qui è Arduino Schianato questo è un nuovo video di un'operazione che ho aperto da poco sull'argento questa volta io sapete nella mia watch list ho principalmente l'oro ma ovviamente l'argento lo guardo perché comunque è molto correlato con l'oro e qualche trade insomma l'ho sempre fatto ecco che l'argento ha a mio avviso una bellissima struttura si è iniziato a consolidare con un abbassamento della vola dopo questo grande movimento di vola e ha fatto alcune cose ovvero ha fatto due barre inside eccole qua sfociate poi con il breakout al rialzo della barra inside poi ha creato un ritracciamento quindi è da 1, 2, 3, 4, 5 questa è la sesta quindi 5 settimane al di sopra dell'area 14, 50 quindi che ci mostra forza di tenuta di questo livello dopodiché ritracciamento pin bar eccolo qui ho aspettato rotta la settimana precedente scusate successiva ritracciamento ricupero quindi molto bella anche la tenuta nuovamente di questa zona quindi break up ancora molto chiaro area ancora 14, 50 circa tenuta e quindi ho deciso di entrare praticamente sui livelli di breakout della pin su questo trade non ho al momento inserito il target ma ho comunque due aree di importanza che sono 16, 20 e 17, 40 dove opterò vedrò che cosa fare quindi vedremo insomma nei prossimi video poi che cosa succederà io intanto vi saluto vi auguro un buon trading simple e ci vediamo al prossimo video un saluto a tutti eccoci qui l'operazione dell'argento è stata chiusa a 17,30 ho incassato un 1,1,60 di risk reward in questa zona c'era sicuramente la possibilità di prendere profitto l'avevo già detto nel video precedente e quindi ho deciso di incassare il mio trade che era stato fatto appunto da un setup settimanale daily su questo setup con il breakout di questi massimi e quindi l'arrivo su questo livello lo stop sotto i minimi quindi diciamo il trade è andato bene e adesso attendo magari nuovi spunti grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video per la nuova operazione buongiorno a tutti eccoci arrivati a una nuova operazione che si è aperta proprio quest'oggi questa mattina avevo inserito un ordine pendente sell limit su questa zona questa è la coppia forex sterlina dollaro e l'idea è quella di vedere la sterlina che va verso l'area 1,20 tant'è che io ho il target proprio in area 1,20 in questo caso il setup è una inside narrow range che arriva proprio sulla zona precedente 1,22,90 molto importante dove c'è stato la violazione e il movimento molto rapido verso il basso per poi andare a ritestare questa zona nel recente passato nei giorni scorsi ieri appunto questa inside narrow range questa mattina era già abbastanza tonico il movimento short quindi ho deciso guardando anche quello che stava avvenendo su 4 ore questa mattina alle ore 9 e il prezzo era qui stava scendendo e vedendo un po' la struttura anche sul grafico 4 ore avevo notato come quindi avendo già rotto la inside in questo caso già rotto il minimo dell'inside quindi era già stata violata sul 4 ore come si può notare avevo un'area pullback quindi una possibile area di inserimento sell limit così ho fatto adesso sono tornato in ufficio sono circa le 15 del pomeriggio e ho dato un occhio all'operazione ho visto che è stata presa e che vedremo un po' come continuerà ovviamente io adesso in questo momento faccio un set and forget quindi fino a questa sera poi non guarderò più il grafico e basta insomma ci vedremo poi nei prossimi video per vedere un po' come continua l'operazione come la gestirò e tutto il seguito insomma dell'operazione intanto vi saluto e ci vediamo al prossimo video eccoci al secondo video della operazione su sterlina dollaro che come vedete ha al momento mosso nella mia direzione in questo momento siamo appunto vedete verso l'1 a 1 di risk reward dopo il movimento forte di venerdì in questo momento è lunedì mattina quindi questa è la barrettina della domenica diciamo della notte e questa quindi diciamo che al momento siamo lì non modifico nulla al momento e lascio correre il tutto e vedremo un pochino poi nei prossimi giorni come gestirla sapendo che comunque si cercherà di andare verso i target intanto un saluto e ci vediamo al prossimo video buongiorno a tutti questa è una nuova operazione che ho inserito ieri in realtà è entrata ieri ed è un connubio tra week e daily 4 ore insomma sulla struttura del mercato avevo notato un aumento di volatilità proprio sull'euro dollaro con la barra di questa giornata che si andava ad avvicinare proprio nei pressi dell'area 1,10 area massimo di range dell'ultimo periodo si può notare come questa zona si è stata colpita molte volte nell'ultimo periodo con una volatilità ampia ogni volta vedete questa volta però cosa è successo ho fatto swing proprio su questa zona e da qui è ripartito con vola alta proprio dopo aver fatto la molla a rialzo qui quindi linea di massima ci arriva con molta più forza con molta più volatilità e quindi ho reputato questo livello non più diciamo un livello dove vendere ma un livello dove appunto comprare quindi poi ieri su 4 ore si è venuto a creare diciamo una impostazione una struttura dei prezzi interessante e ho deciso di entrare dopo questa barra con un ordine limite sul 38.2% di ritracciamento di questa barra che corrispondeva appunto con questa zona area 1,0990 all'incirca 1,0994 mi sembra più perfettamente sono entrato proprio qui stop diciamo l'ho messo sul swing 4 ore in questo caso anche se è un po' più aggressivo rispetto a questo swing con un target sull'area di massimi precedenti che in realtà corrisponde con una delle percentuali di estensione su cui lavoriamo noi via Forex ovviamente questa è una operazione che abbiamo condiviso insieme agli utenti Platinum quindi direi molto interessante l'impostazione dell'euro adesso staremo a vedere ovviamente ieri già la chiusura sopra 1,10 diciamo vi confermo che potrebbe esserci un movimento repentino anche verso l'alto mantengo questa posizione e vedrò poi da farsi nelle prossime giornate ovviamente c'è un'area 1,11 che è un'area tonda dove potrei anche vedere di uscire dal trade però cercherò di andare a target anche perché il target in questo caso ha un rapporto di rischio di 1,2,20 quindi molto interessante a questo punto vi saluto e ci vedremo al video successivo dell'operazione eccoci arrivati al secondo video dell'operazione sull'euro dollaro questa mattina in trading room insieme ad Antonio abbiamo deciso di modificare lo stop sotto i minimi fatti proprio oggi adesso siamo alle 10 quasi alle 11 della mattina è venerdì e questo corrisponde con un mini consolidamento vedete sul grafico a 4 ore che mi aveva fatto entrare ovviamente sempre in linea di massima con una view daily weekly e quindi mantengo il target che è quasi 1,2 e mezzo in realtà sulla posizione però spostandomi lo stop lì andrei a incassare comunque un po' più di 1 a 1 quindi o 1,2 e mezzo o 1 a 1 ormai è posizionato diciamo e quindi non si può più diciamo perdere ecco non si può più avere un costo su questa operazione ma esclusivamente un profitto o di 1,2 e mezzo circa nella posizione iniziale o di 1 a penso 1,10 1,20 nel caso in cui torni indietro essendo venerdì però in effetti c'è anche una possibile terza chance nel senso che a fine giornata se non dovessi essere eseguito e dovessi avere magari la barra daily che intorno alle 22 della sera 21,30 è praticamente vicino ai livelli di target per qualche pip potrei anche decidere di uscire prematuramente lo vedremo nel prossimo video com'è andata e intanto vi saluto eccoci arrivati al ultimo video dell'operazione dell'euro dollaro è pomeriggio ho fatto il video questa mattina e nel giro di qualche ora il mercato è andato a target e da qui ha ritracciato quindi il target era stato inserito in maniera perfetta direi in questo caso i massimi precedenti con la dinamica appunto delle estensioni come abbiamo detto prima da T3 a T4 e quindi in questo caso insomma è incassato circa 1,2 e mezzo di risk reward io a questo punto direi che vi saluto e ci vedremo alla prossima operazione buon trading simple buongiorno a tutti in questo video vi mostro un'altra operazione che ho aperto sia aperta quest'oggi sul dollaro yen coppia forex interessante che però nell'ultimo periodo era un po' schiacciata qua sotto e venerdì aveva mostrato questo inside fake out pin bar inizialmente non l'ho tradata subito perché non mi convinceva allo schiacciamento precedente poi però su grafico a 4 ore questa proprio appena chiuso si è venuto a creare una conferma diciamo di price action quindi movimento che è andato a ritestare su un minimo molto importante che prendeva anche altri minimi come potete ben vedere quindi conferma diciamo la volontà del dollaro yen di fare magari un ulteriore movimento in salita a questo punto quindi ho inserito un ordine sul dollaro yen sul punto di breakout della pin con stop direttamente su 4 ore e con un daily che quindi con un target daily che ci può fornire guardate che bello ci può fornire un target veramente molto interessante con un rr di 1 a 2 quindi assolutamente buono da un punto di vista proprio di rapporto tra costo e ricavo 1 a 2 07 se devo essere proprio perfetto quindi interessante il tipo di posizione il target è stato messo sui nostri livelli di estensione e anche sul 108.50 diciamo la zona di ex livello di importanza e adesso staremo a vedere un po' con un set and forget diciamo seguendola per carità però non essendo troppo appiccicati alla posizione lasciandola un pochino muoversi bene io vi saluto ci vediamo al prossimo video alla prossima operazione anzi alla continuazione di questa e intanto vi auguro una buona giornata eccoci arrivati alla seconda parte del video dell'operazione dollaro yen in questo caso come vedete il mercato in questo momento è sparato a rialzo in maniera veramente molto molto forte molto tonica e vedremo un po' che cosa succederà poi introsera l'idea è quella di andare a target ma se dovesse esserci una chiusura del genere potrei anche valutare un'uscita direttamente sul t5 però staremo a vedere un po' al momento direi che la posizione sta andando a gonfie vele siamo vicini al target e vedremo poi che cosa avverrà quindi ci vediamo al prossimo video per vedere come sarà andata l'operazione un saluto eccoci al terzo video dell'operazione su dollaro yen velocissimo target raggiunto su poco sotto il t6 quindi un altro 1 a 2 un po' più di 1 a 2 in realtà portato in cassa quindi molto bene vedete come il rapporto tra il costo e il ricavo nell'operazione è molto importante oltre alla qualità ovviamente del segnale e la struttura dei prezzi che deve essere ovviamente quella che cerchiamo sempre di trasmettere nelle nostre trading room del platino eccetera bene a questo punto io vi auguro un buon trading simple e ci vedremo ai prossimi video dedicati sempre all'operatività un saluto